Canoni pertinenziali e possibilità di tenere montate le strutture balneari per tutto l'anno. Su questi argomenti il Sib, il sindacato di categoria, ha presentato due emendamenti che saranno discussi a breve dal governo Renzi. A darne notizie è stato il presidente del Sib Cosenza, Antonio Giannotti, che con cauto ottimismo ci ha anche riferito che ci sono tutte le carte in regola per l'inserimento degli emendamenti nel decreto 1000 proroghe 2015. Per quanto riguarda i canoni pertinenziali che gravano sugli immobili degli stabilimenti balneari realizzati dai titolari ma che con il tempo sono diventati proprietà dello Stato, l'obiettivo è quello di diminuire sensibilmente l'importo lievitato in alcuni casi anche di 20 volte. Un salasso per gli imprenditori, ha detto Giannotti, che rischiano di perdere il rinnovo della concessione per un canone che grava pesantemente sulle loro tasche. L'obiettivo è quello di trovare una giusta mediazione sia per i canoni futuri sia per bloccare i procedimenti finora avviati nei confronti degli imprenditori che non hanno adempiuto ai pagamenti. Per quanto riguarda la possibilità di tenere montate le strutture balneari per tutto l'anno, la Calabria vuole far leva sull'Expo 2015 seguendo l'esempio sia della Basilicata che ha inoltre sfruttato l'investitura di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019 e sia della regione Puglia. Ma la battaglia delle battaglie rimane la legge quadro per contrastare, prorogare o quantomeno recepire, secondo le esigenze della categoria, le entrate in vigore della direttiva europea denominata Bolkestein con cui le concessioni dei maniali marittime verrebbero assegnate attraverso le aste pubbliche. Ancora non c'è nulla di nuovo sotto il sole, si va a colpi di incontri tra balneari e governo. Il primo è stato a inizio gennaio e un secondo sarà organizzato per febbraio. L'interlocutore privilegiato rimane il sottosegretario di Stato ai beni culturali e al turismo Francesca Barracciu. Ma a complicare le cose è il tempo. Se la Corte di Giustizia europea ha chiamato a pronunciarsi dal Taro Lombardia sulla proroga del governo Monti che ha fissato l'entrata in vigore della Bolkestein al 2020, dovesse decidere per l'abrogazione le cose si metterebbero male perché si dovrebbe far fede alla prima proroga fissata per il 2015. Ciò vuol dire che dal 2016 si passerebbe all'assegnazione delle concessioni tramite asta pubblica. Per il Sib, ha detto Giannotti, questa battaglia rimane la priorità. Sarebbe una catastrofe per il comparto e per questo motivo stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze.